Dopo il via libera del Premier Draghi, in Italia il Green Pass è già ufficialmente operativo. Dal 1 luglio il certificato verde, indispensabile per accedere agli eventi pubblici e per spostarsi su tutto il territorio europeo, sarà efficace in tutta l'Unione. Il Green Pass viene rilasciato dal Ministero della Salute e con carta d'identità digitale o tessera sanitaria si può acquisire tramite il sito del governo dedicato, le app Immuni e Io o con l'aiuto di medici di base e farmacie.